Ben trovati con il TGLIS di Telebari. Scambio elettorale politico mafioso che ha coinvolto membri del clan Parisi, Palermiti, Strisciuglio e Montani di Bari che sarebbero stati contattati direttamente dall'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri ora in carcere per permettere l'elezione della moglie Maria Carmen Lorusso ai domiciliari insieme al padre Vito, oncologo in passato già sottoposto a misura per altre vicende al Consiglio Comunale di Bari nel 2019 infiltrazioni della mafia nell'imprenditoria cittadina in particolare nel settore del caffè e dell'automotive ma anche estorsioni, porto e detenzione di armi illecita commercializzazione di stupefacenti turbata libertà degli incanti estorsione in competizioni sportive tutti aggravati dal metodo mafioso e contestati a vertici e affiliati del clan Parisi-Palermiti sono questi i reati contestati alle 130 persone destinatarie delle 137 misure cautelari eseguite nell'ambito della operazione di polizia codice interno operazioni coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e dalla procura di Bari doppia missione imprenditoriale e istituzionale della Regione Puglia in Arabia Saudita l'occasione è The Big Five Saudi la principale fiera annuale del Paese per il settore edilizia e costruzioni in programma a Riyadh da oggi fino al 29 febbraio la Regione Puglia sarà presente con una delegazione di 16 imprese e l'obiettivo è valorizzare l'immagine nei comparti produttivi regionali dei materiali per le costruzioni presentare i prodotti e le soluzioni più innovative made in Puglia ma anche favorire nuove opportunità di collaborazione con gli operatori internazionali presenti in fiera all'evento sono attesi oltre 55.000 operatori 1.100 espositori da oltre 40 Paesi e adesso le altre notizie del TG Lease un comitato di nove saggi in rappresentanza delle varie anime del centro-sinistra incaricati di definire le regole e fare in modo che le primarie per la scelta del candidato sindaco di Bari siano aperte e trasparenti ecco la proposta che sarà sottoposta al tavolo di coalizione in programma domani martedì la strategia è stata concordata con Vito Leccese candidato sindaco del Partito Democratico e Michele Laforgia sostenuto da ampi settori della galassia progressista saranno della partita però anche i civici e il Movimento 5 Stelle decisi ad avere voce in capitolo in una scelta dalla quale dipendono l'esito delle elezioni comunali e il futuro del campo largo barese ha aizzato il cane contro i carabinieri in un controllo ed è stato arrestato si tratta di un 23enne tarantino agli arresti domiciliari perché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale sul tavolo della cucina i militari hanno trovato 10 grammi di hashish non solo nel soggiorno è stata trovata la scatola di un cellulare ma il ragazzo per evitare che ne fosse controllato il contenuto l'ha strappato dalle mani del carabiniere lanciandola fuori dalla finestra immediatamente bloccato il 23enne è andato in escandescenza iniziando ad urlare e aizzando il proprio cane contro i militari giovedì prossimo 29 febbraio alle 17.30 al teatro Piccini di Bari il segretario regionale del Ministero della Cultura Maria Piccarreta e l'artista Edoardo Tresoldi terranno un incontro aperto al pubblico dal titolo a regola d'arte obiettivo raccontare alla città la natura e lo spirito dell'opera che l'artista milanese realizzerà nell'area archeologica di San Pietro a Barivecchia dopo un lungo percorso di studi in cui è stata documentata una stratificazione ininterrotta di quasi 4.000 anni di storia una domenica all'insegna dello sport nonostante la pioggia a Bari che ha ospitato ieri le tre manifestazioni previste nell'ambito della terza edizione della Bari Med Marathon la gara podistica da 21 chilometri rivolta a 22 paesi del Mediterraneo che è partita da Piazza Libertà stessa location da cui ha preso il via anche la Factory Run 10 chilometri competitiva e non competitiva prima e unica corsa in Italia rivolta alle imprese e ai lavoratori sostenuta da Confindustria per promuovere forme di welfare aziendale attraverso lo sport e adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione sono Matteo Buccoliero di 20 anni e una sua amica diciottenne Matilde Chionna le vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Mesagne in provincia di Brindisi il ventenne e il figlio del pubblico ministero della procura di Taranto Mariano Buccoliero che si è occupato tra gli altri del processo ambiente svenduto la ragazza era una promessa del volley Brindisino ieri i due erano di ritorno da una partita della diciottenne quando per cause ancora da accertare la loro auto si è scontrata con una BMW guidata da un 32enne trasferito in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi paura nella notte a Cerignola dove si è verificata una esplosione in un appartamento al primo piano di una palazzina in via delle Rose è successo poco prima della mezzanotte per cause ancora da accertare nell'abitazione al cui interno vi era il solo proprietario un uomo di 50 anni si è verificata l'esplosione con principio di incendio i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona ferito il proprietario dell'abitazione ora all'ospedale Tatarella le sue condizioni non sarebbero comunque gravi le riforme della giustizia andrebbero fatte dagli addetti ai lavori dai magistrati e avvocati che sono ogni giorno in udienza e non da persone che non sono state mai in un'aula di giustizia lo ha detto il capo della procura di Napoli Nicola Gratteri a Trani dove ha presentato il libro Il Grifone scritto con lo storico Antonio Nicosia Farà tappa a Taranto martedì prossimo il treno del ricordo 2024 progetto promosso dal ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi per ricordare le vittime delle foibe il treno del ricordo è un treno storico messo a disposizione di fondazione ferrovie italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli il convoglio arriverà al binario 1 della stazione di Taranto alle 11 il programma della cerimonia prevede il saluto delle autorità e la visita ai vagoni del treno storico e con il TgList è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento grazie per averci seguito